Denuncia dell'Associazione Codice Abruzzo su pratica scorretta di un'azienda autorizzata dal Ministero Sviluppo Economico alla vendita di decoder per il digitale terrestre che prevede per gli ultra 65 anni un buon acquisto di 50 euro. Secondo quanto riferito da Domenico Pettinari di Codici, il decoder richiesto non sarebbe reperibile, verrebbe invece proposto l'acquisto di un altro modello più costoso. Quindi ipotizziamo la persona che non supera i 10.000 euro di redditi, quindi che ha tutti i requisiti, ultra 65 anni, in regola col pagamento del canone Rai che parte da un paesetto sperduto della provincia di Pescara, si reca a pescare in quell'unico centro autorizzato dove nel sito del Ministero c'è scritto che devono dargli il decoder gratuitamente perché poi soffriranno del contributo statale di 50 euro, si reca qui e quelli gli dicono purtroppo non abbiamo i decoder e quindi la persona che fa è costretta a pagare, a cacciare i 50 euro, a pagare. Lo stesso ministero che tramite il call center del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale noi siamo in contatto, che ci aveva detto ieri, diversi anziani della provincia di Pescara chiamavano addirittura dicendo che questo centro, sempre questo centro autorizzato, che è un centro commerciale, invitava le persone ad acquistare un decoder di 150 euro e poi dicevano poi usufruire di quello scondo di 50 euro. Quindi 100 euro me li paghi e 50 euro è quello scondo. Non è vero, la legge prevede che chi ha i requisiti può tranquillamente recarsi presso i centri autorizzati e appunto acquistare un decoder senza pagare nullo perché quel contributo di 50 euro del Ministero va a copertura del prodotto quindi scontato. Questa è una situazione allarmante, una situazione da brivido, in questo periodo qui noi naturalmente siamo con gli occhi aperti, stiamo verificando tante altre situazioni, solo nella regione Abruzzo ci sono 7 centri autorizzati, verificheremo tutti gli altri centri, per adesso abbiamo monitorato solo la provincia di Pescara, nei prossimi giorni monitoreremo quella dell'Aquila, di Chieti e di Teramo.